Il Covid non va in vacanza e i contagi in Abruzzo sono in aumento. Da qualche giorno si superano quotidianamente i mille positivi. A giugno, nella nostra regione, i contagi sono quasi raddoppiati dai 3.350 casi dei primi sette giorni del mese. Si è infatti passati ai 5.860 dell'ultima settimana. La crescita è stata del 75%, impennata dovuta alle nuove sottovarianti Omicron 4 e 5, altamente trasmissibili. Il professor Paolo Fazzi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell'Ospedale di Pescara, invita alla cautela e al buonsenso. Allora, secondo me ci sarà una circolazione maggiore del virus rispetto all'estate 2020 e 2021. Innanzitutto è un tipo di virus molto più infettante, è un tipo di virus che però dà meno segni di patologia, quindi ci sarà un numero importante di asintomatici che faranno circolare il virus. Poi c'è un altro fatto, che adesso si stanno prendendo dei provvedimenti sull'uso dei dispositivi, tipo la mascherina, che secondo me potrebbero far circolare ancora di più il virus. Ad esempio, negli aerei non si userà più la mascherina. E' naturale che in un ambito chiuso la possibilità di circolazione di questo virus si amplifica, anche perché è un virus che si trasmette tramite aerosol, oltre che con le goccioline dei flughe. Quindi probabilmente ci sarà una grande circolazione. Il problema qual è? Che questo gran numero, probabilmente un numero comunque superiore rispetto a quelli degli altri anni di infetti, soggetti infetti, questo gran numero porterà il virus, traslarà il virus in una fase, cioè l'autunno inoltrato e l'inverno, dove invece il virus darà il peggio di sé in termini di infezione e di malattia. E riprendono a salire nella nostra regione anche i ricoveri e i positivi attuali tornano a quota 20.000, mentre ci sono nuovi decessi. Per cui io spero che le persone riescano comunque a comprendere l'importanza dell'uso della mascherina e magari anche se l'uso non è più obbligatorio, magari di tenere la mascherina sul viso quando magari si trova in un ambiente confinato, dove non c'è un grosso ricambio d'aria. Ed inoltre inviterei anche i soggetti, soprattutto giovani, a evitare i grossi assembramenti estivi, perché anche se l'ambiente è aperto, però gli assembramenti possono comunque determinare una grande circolazione del virus. Ribadisce inoltre l'importanza di non reinviare la quarta dose a ottantenni e oltre fragili e sull'opportunità di un vaccino in autunno in grado di una protezione a più ampio spettro? Innanzitutto mi auguro che esca fuori e venga commercializzato un vaccino disegnato sulle nuove varianti e quindi un vaccino più performante. Probabilmente fin tanto che il virus non diventerà endemico e quanto tempo ci vorrà, non lo so, un anno, forse due, sarebbe consigliabile effettuare un vaccino all'inizio dell'autunno magari parallelamente al vaccino anti-influenzale, in modo tale che comunque nel periodo più freddo si sarà conclude comunque coperti da questi vaccini.